eccoci sono passi a diventare l'ultima recensione che abbiamo fatto allora in realtà abbiamo fatto altre recensioni solo che mi sei rovinato il cellulare sei spento e quindi c'ho due recensioni c'ho due recensioni da mettere che stanno su quel cellulare quindi niente purtroppo oggi però stiamo a casa cioè giochiamo in casa a Tor San Lorenzo alla pischeria trattoria Morini ora vi faremo vedere abbiamo preso due menù sono sia il menù che la carta normale e noi ci siamo presi i menù di pesce tutto pesce tutto pesce raga no Marco carta dove se lo fai maglietti vi faremo vedere dopo cosa abbiamo preso carino c'è la sala esterna la sala interna se sta freschi d'estate se sta caldi d'inverno a dopo questa è la sala interna la sala esterna sta sulla strada però sono i tavolini fuori insomma è molto casereccio ma proprio attrattoria ma profumo ecco mentre io riprendo camicia magna questo è il sotè di cozze questa è la vostra vongola ma questa è buona buona? com'è? buona? tu riprendi vabbè ciao ecco qui ragazzi la sala la sala esterna dove potete trovare la pizza i menù di pesce sono vari vedete? qui potete trovare tutto pure camicia che dorme sono diabolico nell'amplezzo sproporzionato per qualche riguardo le dimensioni di sesso e se trovo la tonnata la cosa molto carina è che fanno entrare i nostri amici pelosi senza problemi pian sala esterna ovviamente che è sala interna ma perché non mi so fatta la cera? eh? ma perché non mi so fatta la cera? e non mi so fatta la cera gli hanno pure dato l'acqua a Giorgi sono molto gentili bravi bravi è andata via Giorgi dove sta? Giorgi ciao non so ancora se su questo scoglio io 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 ecco qua fettuccine allo scoglio assaggia Camì e dici come sono sono belle mie buone eh? buone ecco i miei occhetti dei culo che dici culo? matta matta forte mi soffia si è bruciata la lingua buoni il mie occhetto non si è batte mai il mie occhetto non si è batte mai? camisa eh che c'è culo? fammi assaggiare va ma non si è buone ma non si è buone ma non si è buone ottima scelta buone brava come è? due fritture? due fritture che profumo buono come sono? ecco qua poi la cicoretta questa amica ha fatto lozzozzo si è presa le patatine fritte insomma per finire caffè e borbone anche per noi come le star cazzo devo girarlo camicia si è preso pure l'amaro del capo raga dopo l'amaro del capo e mezzo litro di vino camicia è una metta faccia c'ho bisogno dal letto saluta camicia eccoci qui ragazzi abbiamo finito siamo solt i spatti sono fantastici ecco la chef che ci ha fatto mangiare divinamente i titolari la signora Consuelo il suo marito Mauro che non voleva fare nel video ma comunque l'abbiamo messo uguale venite qui trattoria Morini poi rilasciamo tutti i dati a Torso a Lorenzo alla fine del video grazie ciao grazie a voi grazie a voi grazie a tutti Grazie a tutti